E' un rata! E' un rata! Non si dice dorata semmai! E' stranissimo! Paolo ha trovato questo rato! Tre fermi, adesso vediamo! Eccolo qua! Guarda come si muove! Che roba è! Sta cercando di togliere i sassi! Luca, ci sta riuscendo! Ci credo! E' stato! Lo vedi? Sì! Ho trovato un trifoglio! Un trifoglio! Mi piace il tuo orologio! Mi sa di si posso lasciarlo andare? Adesso, alzino un attimo! Mi sa di si può sperare! Grazie a tutti.